Ciao a tutti, oggi smontiamo le balle del PD sui permessi di ricerca chiamati bugia e fantossa. Vi ricordate la delibera di settembre con cui l'assessore Costi manifestava pubblicamente la propria ferma contra retale trivelle provando a far credere di aver messo in atto tutto ciò che era nelle possibilità della regione per fermare le trivellazioni e scaricando naturalmente la responsabilità sul ministero? Sembrava la svolta e invece dovete sapere che purtroppo quella delibera non ha alcun effetto concreto nella realtà perché la giunta oltre a dirsi a parole vicine ai cittadini e agli amministratori locali promette di non rilasciare attenzione alle parole più nessun ulteriore atto da qui in avanti relativo ai due permessi di ricerca. Ora tralascendo il fatto che le delibere sono atti che per loro natura servono per impegnarsi a fare oggi qualcosa e non a promettere di non fare qualcos'altro in futuro il punto è che gli ok fondamentali l'assessore Costi li ha già stati due anni fa con l'intesa del 2016 e il nodo è proprio questo perché la legge ci dice che la materia è sicuramente di competenza statale ma le determinazioni inerenti alla prospezione la ricerca e la coltivazione di idrocarburi viene fatta d'intesa con le regioni interessate legge 239 del 2004 articolo 1 comma 7 lettera n intesa che è vincolante lo dice anche nel 2017 l'ex ministro del PD Bellanova rispondendo a un question time in cui si dice che l'esito delle valutazioni ambientali rilascio d'intesa da parte della regione competente hanno valore vincolante per ogni attività del ministero dello sviluppo economico ai fini delle successive autorizzazioni e all'interno di quella tanto sbandierata delibera regionale di settembre con cui l'assessore cerca di nascondere le proprie responsabilità non si parla minimamente della revoca delle intese positive date dalla stessa assessora nel 2016 e siccome le istituzioni lavorano per atti e non per chiacchiere e quelle due intese non sono mai state formalmente revocate continuano ad esplicare a tutt'oggi i loro effetti su questo anche se lo sapevamo già abbiamo voluto chiedere anche un parere agli uffici tecnici della regione che ci confermano quanto da noi sostenuto le intese positive sono ancora vigenti quindi l'unico modo che l'assessore costi ha per dare seguito alle proprie parole e fermare le trivelle è convocare una riunione di giunta in cui viene decisa la revoca delle intese positive del 2016 senza questo atto l'unica delibera fatta finora è carta straccia oltre a essere una colossale presa in giro dei cittadini e degli amministratori di quei territori